In altri video presenti nel nostro canale abbiamo visto come guadagnare con il business degli affitti brevi sia estremamente redditizio, automatizzabile ed una delle migliori opportunità disponibili nel ventesimo secolo. Come funzionano le varie modalità attraverso le quali si può approcciare questo business e cosa comporta scegliere ad esempio una sublocazione piuttosto che un immobile in property management? Lo spiegheremo all'interno di questo video. Per definizione approcciare il mercato dell'immobiliare o del turismo richiede aprire un albergo piuttosto che costruire palazzine o comprare immobili che per definizione ha un costo incredibile. Ma attraverso il property management, la sublocazione o l'online management è possibile approcciare questo fantastico business portandosi a casa delle cifre importanti pur non avendo del capitale da investire. Tranne nella casistica della sublocazione dove qualche migliaio di euro di budget è indispensabile. Tuttavia non preoccupiamoci perché abbiamo sempre l'online management o il property management che ci vengono incontro con un investimento pari a zero. Partiamo dal property management che è personalmente quella metodologia che mi ha permesso di raggiungere il mio primo milione di euro con estrema semplicità e senza investire un euro. Si tratta di una metodologia di guadagno che ti permette di gestire immobili per conto di altre persone, spesso facoltose, in cambio di una provvigione. E come fa un agente immobiliare? Di norma l'agente immobiliare prende un incarico, vende una casa e se riesce a vendere la casa ha una provvigione. L'agente immobiliare non paga qualcuno per poter prendere l'incarico di quella casa. Al contrario viene pagato solo ed esclusivamente se porta a termine l'accordo, ovvero io agente immobiliare senza spendere un euro prendo l'incarico della casa, se la vendo vengo pagato, se non la vendo non succede nulla, non ho né guadagnato né perso denaro. E il meccanismo del property management è molto simile. Io, property manager, senza spendere un euro, senza investire, prendo in gestione la casa, la metto su portali come Airbnb e Booking e inizio a ricevere prenotazioni. Per ogni prenotazione guadagno un'importante provvigione. Con la differenza che la casa in vendita è molto più difficile da piazzare, perché devi trovare un qualcuno che è disposto a spendere centinaia di migliaia di euro. E soprattutto una volta venduta la casa devi rincorrere la prossima casa e il prossimo acquirente. Insomma, è un lavoro estenuante. Col property management invece una volta pubblicato l'annuncio su Airbnb e Booking saranno le persone a cercare te e prenoteranno magari anche mentre tu stai dormendo, stai giocando a padel o sei con i tuoi figli. Succede spesso, infatti, e te lo farò vedere tra pochissimo direttamente sul mio telefono, che mentre sto facendo altro riceve una prenotazione. Ciò significa che ho guadagnato in maniera automatica mentre stavo facendo appunto qualcos'altro. Grazie al property management i proprietari sono contentissimi. Non devono investire un centesimo sino a che non inizierai a ricevere prenotazioni. Ma quello è semplicissimo, anche se i proprietari non lo sanno. Successivamente guadagneranno di più rispetto ad un affitto classico, non avranno il problema che un inquilino magari non gli paga l'affitto, perché qui i pagamenti sono anticipati, e non devono pensare a nulla perché a tutto il resto ci penserai tu. Quello che loro non sanno però è che questi immobili sono facilmente automatizzabili. E ciò significa che tutti i processi che comportano che un immobile inizia a generare denaro possono essere delegati, spesso a software o oggetti che acquistiamo su Amazon a poche decine di euro. Ti è mai capitato di andare in giro per la città e di vedere delle cassettine con un codice o una serratura smart come questa? Beh, molto probabilmente sono property manager che hanno approcciato questo fantastico business, stanno guadagnando ovunque loro siano nel mondo, e hanno automatizzato l'entrata e l'uscita dei loro ospiti. Per tutto quello che riguarda le pulizie, poi abbiamo delle persone dedicate o delle imprese di pulizia, e per tutto quello che riguarda la comunicazione con l'ospite, possiamo comodamente occuparcene ovunque noi siamo, automatizzare anche grazie all'intelligenza artificiale le conversazioni con gli ospiti, o pagare una persona 100-200 euro al mese per fare questo lavoro al posto nostro. Capisci dunque che guadagnare grazie al property management è semplicissimo, è con zero rischi e soprattutto si può fare ad investimento zero. Ma se avessi del budget da investire? Beh, se avessi del budget da investire non sei obbligato a farlo, ma potresti puntare anche alla sublocazione. La sublocazione prevede che, attraverso una ricerca di mercato, troviamo un immobile che ha un prezzo in affitto classico competitivo. E attenzione, per competitivo non intendo economico, intendo che quel dato prezzo, ad esempio 2000 euro al mese, può essere facilmente raggiunto con 5 o 6 prenotazioni in affitto breve. Ciò significa che se io prendo questo immobile da 2000 euro al mese, con 5 o 6 prenotazioni ho pagato l'affitto, tutte le restanti notti sono mero profitto. In generale non è affatto difficile, se sai come farlo, chiaramente, riempire immobili anche 30 notti su 30. Così facendo hai garantito anche con la sublocazione un profitto incredibile. E questo è applicabile sia ad immobili da 600-700 euro al mese, che ad immobili da migliaia e migliaia di euro al mese. A patto chiaramente che tu sappia come riconoscere questi immobili che sono delle vere e proprie miniere d'oro. Io personalmente posseggo decine di immobili in sublocazione sparsi per il mondo, e sia il monolocale da 700 euro al mese, che la villa da 100.000 euro a stagione, riescono a generarmi delle cifre importantissime. Grazie alla sublocazione, infatti, ho scalato ulteriormente il mio business, passando da 1 milione a 2 milioni, 3 milioni e via discorrendo. Oggi il mio portfoglio è composto in buona parte da sublocazioni e in buona parte da immobili in property management. Infatti una tipologia non esclude l'altra ed è possibile guadagnare benissimo o solo in sublocazione, o solo in property management, o addirittura con entrambe le professioni, che vanno perfettamente d'accordo e di pari passo. A questo punto starete pensando che questo però è un business realizzabile solo in zone ad alta densità abitativa, ovvero città come Milano, Torino, Firenze o Roma? Assolutamente no. È un business che in realtà può essere svolto pressoché ovunque, in Italia ed in Europa, poiché l'Italia in particolare è un paese che si sviluppa sul turismo e anche nei piccoli paesini spesso esistono immobili profittevoli per l'affitto breve. Ciò che devi fare per capire se nella tua zona c'è richiesta di questa tipologia di immobili è molto semplice, andare su Airbnb o andare su Google e vedere se esistono già degli alberghi o delle strutture ricettive che lavorano in quella zona. Se queste strutture ricettive esistono e magari sono attive da oltre un anno significa che non sono fallite. E perché non sono fallite? Perché ci sono dei clienti che quotidianamente prenotano presso queste strutture. E se ci sono clienti che prenotano presso queste strutture significa che in quella zona c'è un interesse turistico. Non preoccuparti della concorrenza perché la maggior parte delle persone opera in maniera molto poco professionale. Foto scattate dal cellulare, foto scattate dal cugino con la reflex, insomma nessuno opera in maniera realmente professionale con foto professionali, titoli professionali e descrizioni esaustive. Tuttavia c'è una nicchia segreta incredibile che nessuno conosce all'interno del mondo degli affitti brevi ed è l'online management. Si tratta di una professione che permette alle persone ovunque queste siano nel mondo di guadagnare cifre incredibili sfruttando gli affitti brevi. Come dice la parola stessa l'online management presuppone che tu gestisca immobili semplicemente online. Ti tratta di strutture che già lavorano sulle piattaforme come Airbnb e Booking e spesso sono appunto appartamenti, bed and breakfast o addirittura alberghi. Ma non lavorano nel migliore dei modi, non hanno le loro stanze o le loro case sempre occupate, non stanno ottenendo il prezzo massimo che potrebbero richiedere e non hanno appunto un annuncio professionale. Grazie all'online management possiamo diventare dei loro consulenti ed essere pagati per sistemare i loro annunci e aiutarli a gestire la sola parte online. Ciò significa che l'accoglienza e le pulizie saranno sempre in capo a loro, ma tutta la parte che è perfettamente gestibile da remoto, ad esempio dal tuo smartphone o dal tuo computer, potrai gestirla tu ovunque tu sia nel mondo. Grazie a questo business io gestisco immobili in zone dove addirittura non sono mai stato nel mondo. Ho un intero resort a Zanzibar, ho delle ville di lusso a Ibiza dove non sono mai stato in vita mia, in quanto non sono un grande festaiolo. Ma ho anche una guest house alle Maldive. Questi immobili ogni anno mi garantiscono incassi nell'ordine delle decine o centinaia di migliaia di euro di guadagni. E io non li ho mai visti, non sono mai stato in quei luoghi e soprattutto li gestisco comodamente dal mio smartphone o dal mio computer. Assieme a me ci sono migliaia di persone che già svolgono la professione dell'online management grazie agli insegnamenti e ai trucchetti che ho dato loro. Si tratta di un'opportunità incredibile soprattutto se il tuo sogno è quello di guadagnare viaggiando in giro per il mondo. Spero con questo video di averti fatto capire le potenzialità incredibili che si celano dietro il business degli affitti brevi. E sappi che tantissime persone hanno cambiato la loro vita grazie a questo business. Esistono poi tante altre opportunità di guadagno con business come il copywriting o le affiliate marketing che possono farti guadagnare bene. A tal proposito ho realizzato un video che trovi qua in basso dove parlo dei 7 business che possono farti guadagnare 10.000 euro al mese. Lo trovi qua in basso? Mi raccomando guardalo ed iscriviti al canale per non perderti i prossimi video di business e lifestyle. Ci vediamo prossimamente! Ciao!